Il parcheggio dell'ospedale Mazzini sarà gestito dalla ASL, questo già a partire dal 1 marzo, quando la ditta Parking Italia riconsegnerà la struttura all'azienda sanitaria. Lo ha annunciato il manager della ASL, Roberto Fagnano, nel corso della riunione di capigruppo convocata a Palazzo di Città per discutere di un problema che interessa tutta la cittadinanza. Fagnano ha spiegato, tra le osservazioni del Partito Democratico, che non si è detto affatto convinto del progetto che la ASL ha intenzione di trovare un accordo con il privato per riprendersi definitivamente il posteggio, completarlo e gestirlo. Questo per chiudere un'annosa diatriba che si è aperta già ai tempi dell'ex manager Varrassi. La situazione è che esiste su una proprietà della ASL, perché è della ASL, un'opera realizzata e che un perito del Tribunale ha valutato in circa 9 milioni di euro, poco meno. Che facciamo? Se noi non troviamo una soluzione a questa controversia in via Bonaria, la controversia semplicemente si sposta davanti al giudice. E allora decidiamo se vogliamo dirigere questa situazione oppure essere vittime o succubi o partecipi davanti a un giudice di quella che sarà la decisione. Io credo che se l'azienda ne torna in possesso, in proprietà già lo è, e comunque assuma la titolarità alla totale capacità di gestione di questo parcheggio, possa trovare dei finanziamenti per adeguare il progetto iniziale e anche per finanziare eventuali opere finali.